Sena, angolo battuto, pallone al centro, stacco, gol! Goal! Gol di Maggio! E ci voleva il gol di Cristian Maggio! E ci voleva il gol di Cristian Maggio! E così vi voglio, subito in gol! Maggio sta a Champions League! 1-0 Napoli! Tre minuti di gioco! E speriamo che questo gol sia un gol scacciacrisi per Cristian Maggio! Che non sta vivendo un momento di forma straordinaria!